Marcello, un saluto a te e ai tuoi ospiti. Oggi mi voglio schierare dalla parte di Dybala, dopo che ho sentito tanti moralisti schierarsi contro il gesto che lui ha fatto durante la sostituzione, cioè quello di non aver dato la mano al nostro mister Allegri. Intanto mi auguro che la mano destra la usi per fare questa benedetta firma nel contratto e rimanga il più a lungo possibile con la maglia bianconera. E questa è la cosa principale. Seconda cosa, non mi sembra così grave quello che lui non ha fatto e che avrebbe dovuto fare, cioè stringere la mano, invece l'ha tolta, l'ha portata indietro, ma non gli sto dando tanto peso, come invece sento dire da moltissimi questi finti moralisti che dicono che è un gesto che non andava affatto, sei alla Juve, prendi tanti soldi, sei un ragazzino viziato, meriteresti di essere lasciato fuori domenica con l'Inter, quindi giochiamo senza di bala, cari signori che volete punire questo gesto insulso di un ragazzo che vive con il gol, vive per il gol, vive di entusiasmo, ha preso un palo, non è riuscito a fare gol, è stato sostituito a dieci minuti dalla fine, pensava fino al termine di poter timbrare con il suo nome il cartellino, è naturale che esce sotto pressione e ci sta che possa non dare la mano, che possa essere un attimo nervoso, quindi non capisco queste cose che sento come al solito, sempre in maniera puntualizzata, in maniera esagerata. Fino a poco tempo fa allenavo nel settore giovanile e sentivo spesso dire da quei genitori che sulle tribune poi magari inveivano contro ragazzini di dieci anni, dicendo cose che non posso ripetere, dicevano, si lamentavano che questi sportivi, professionisti, calciatori in questione non erano d'esempio per loro figli, ma non dobbiamo prendere di esempio calciatori, sportivi in genere come educatori dei nostri figli, educatori dei nostri figli dobbiamo essere noi in primis, non devono essere questi gesti ad educare gli altri, noi possiamo vedere, dire, criticare, giudicare, ok, ma non dobbiamo prendere di esempio un giocatore solo perché essendo un professionista poi i nostri figli possano ripetere le gesta di questi ragazzi perché questi vengono visti in tv e quindi possono essere un cattivo insegnamento per loro. Noi dobbiamo essere buoni educatori verso i nostri figli, ok, quindi tutto quello che guardano lo guardano, ma dobbiamo essere noi a indicargli la strada di quella giusta, quindi non facciamo sempre i soliti muralisti buttando lì critiche il giorno dopo a destra e a mag, quindi volevo dire questo e per ultimo chiudere, oggi sento anche dire che il mister Alleghi è un grande allenatore, fino a ieri era un brocco che tutti volevano mandar via, oggi invece addirittura ho sentito dire è il nuovo messia, cioè passiamo da un allenatore che non era capace di fare nulla a un allenatore che tutti sperano ora rimanga perché ha trovato il nuovo modulo, la Juve è forte, grazie a lui sta facendo cose grece, ma per favore scendete dal carro del vincitore come fate spesso che volete salirci e dire io l'avevo detto, scendete per favore e siamo seri, Alleghi era un grande allenatore ma non da adesso, da sempre, probabilmente ve ne state accorgendo solo ora, solo perché la Juve ora sta giocando un buon calcio, sta dando continuità ai risultati, ma Alleghi era bravo prima ma lo è anche adesso, quindi lasciamo perdere e non facciamo gli ipocriti per favore e continuiamo come dico sempre a tenere, ad essere compatti perché dobbiamo arrivare fino alla fine, abbiamo partiti importanti da qui in avanti, partite da vincere e quindi dobbiamo essere uniti e dobbiamo cercare di fare in modo che questa Juve continui a vincere anche in Europa. Ciao a tutti e alla prossima!